È stata la coppia composta da Francesco Alfano e Maria Grazia Ragusa ad aggiudicarsi la terza edizione delle Memorial ad Arcuri di Padel, un'iniziativa di sport, solidarietà e sensibilizzazione alla prevenzione, nata in memoria della moglie prematuramente scomparsa del giornalista Filippo Cardinale, direttore del Corriere di Sciacca. La manifestazione, che si è tenuta presso la struttura Pirrera Padel Center di Sciacca, inaugurata qualche anno fa, consente pure di contribuire a sostegno delle attività della Lilt, impegnata quotidianamente nella prevenzione alle malattie oncologiche. All'iniziativa sportiva hanno preso parte ben 48 coppie di sportivi e appassionati di padel, che si sono dati battaglia e dato vita ad un bello spettacolo, attività coordinata e supportata dal Comitato Oasi della provincia del Grigento, guidato la Saccienza e Mario Cucchiara. Al termine, ovviamente, le varie premiazioni, con gli organizzatori che hanno dato appuntamento a tutti al prossimo anno per la quarta edizione delle Memorial ad Arcuri. E passiamo al podismo. Si è svolta ieri a Canicattì la settima prova del Grand Prix provinciale di corsa su strada, valida anche come prova regionale. Quasi 400 gli attriti al via e molto nutrita la partecipazione saccense, con gli atleti della Gatocle e della Shaka Running, che ha portato a Canicattì ben 26 atleti vincendo il trofeo come squadra più numerosa. Shaka Running, preseduta da Giuseppe Marciante, che ha sin qui dominato il campionato imponendosi in tutte le sette tappe e avendo oramai vinto di fatto il campionato provinciale. Vittorie assolute in campo maschile per Francesco Lucera e in quello femminile per Luana Russo, mattatrice della stagione. Sul podio anche Tony Puccio, terzo assoluto, e poi nelle varie categorie pure Francesca Scirica, Michele Guzzardo, Paolo Lazzara e Rosaria Chiaramonte. Ad Aragona e Real Monte si svolgeranno le ultime due tappe, utili per ufficializzare la classifica finale.